Un appareggio senza reti e con più di un rammarico per l'audacia Cerignola, che saluta in anticipo i play-off per la Serie B, chiudendo comunque la stagione a testa altissima. Lo 0-0 intrasperta contro la Casertana non è stato entusiasmante, ma brucia, almeno in un po' di occasioni non aver trafitto la porta del portiere campano. La prima azione degna di nota è della formazione Ufantina, con una triangolazione coccia da Andrea Vutai con quest'ultimo che manda a lato. Successivamente D'Andrea a Maldona per l'infortunio e fino alla fine del primo tempo non accade più nulla. Nella ripresa a essere protagonista è il portiere della Casertana, che nel finale respinge un colpo di testa velenoso di Vicentin per l'audace Cerignola. Sarà la seconda ed unica pallagol per il giallo-blu, dopo che per tutto il secondo tempo ogni tentativo di andare a rete era risultato vano per l'ottima difesa campana schierata. Va avanti la Casertana, mentre l'audace Cerignola si consola con il fatto che per il terzo anno consecutivo sarà ancora nei professionisti, con la segreta ambizione, ma è nascosta, di abbrudare nella cadetteria. Giuseppe Raffaele rimarrà tecnico giallo-blu anche per la stagione 24-25. Arrivato in terra Ufantina ha dato quella limpa che ha consentito all'audace Cerignola di rinascere dopo un periodo di icile, di chiudere questo campionato con le giuste motivazioni e anche senza subire sconfitte nell'ultima parte della stagione. Un merito doveroso anche per quanto farà per la stagione successiva.